Musica Buonasera e ben ritrovati ad una giornata particolare alla rumbrica di informazione curata da Centro Abruzzo News. Questa sera ospite della nostra trasmissione il responsabile della casa editrici Lupi Edizioni ed ecco con noi Jacopo Lupi. Buonasera Jacopo. Buonasera a te e a tutti. Questa sera parleremo di una nuova uscita, un libro importante, L'ho amato, aveva 17 anni, di Gabriele Paolini, conosciuto come il noto disturbatore d'Italia. Prima di cominciare vorrei leggere un passaggio del libro che dice questo La lettura di questo libro è severamente sconsigliata ai moralizzatori, a chi non ama l'intelligenza di aprire la mente all'ascolto, all'informazione e spara giudizi a mezzo bocca e a mezza bocca. Una frase importante perché di solito si è sempre moralizzatore senza conoscere i fatti. Come nasce l'idea di pubblicare questo testo? L'idea nasce da, io ho conosciuto tempo fa, la scrittrice, l'autrice del libro, l'intervestatrice a Mari Rosa Barbieri che l'ho invitata nella mia libreria per presentare il suo precedente libro. E lì è nata un po' questa idea perché lei era entrata in contatto con questo personaggio Gabriele Paolini e aveva iniziato a scrivere una biografia, una biografia intervista. E da lì è nata un po' l'idea, soltanto che io spaventato dal personaggio ho voluto mettere le mani avanti, ho mandato in giro per avvocati il libro per capire se c'era qualcosa di scomodo o meno. Invece ne è venuto fuori un libro che descrive in maniera molto umana Gabriele Paolini per quello che poi è stato scelto come pubblicazione, come terza pubblicazione della Lupe Editore. Quindi ci crediamo molto in questo libro anche se il personaggio, come hai detto tu, potrebbe sembrare un po' scomodo. Sì. Senti, Paolini si racconta in questo testo con un'autobiografia, chiaramente con il sostegno di una mano di un collega. Cosa ti ha colpito di più? Come ti dicevo mi ha colpito molto l'umanità perché noi tutti quanti conosciamo Paolini come disturbatore, come personaggio generis, è molto egocentrico anche, quindi vuole stare sempre davanti alle telecamere, sempre al centro dell'attenzione. Invece in realtà con questo libro ho scoperto proprio Gabriele come persona ed è quello che mi ha colpito di più ed è quello che mi ha fatto venire la voglia di approfondire il suo caso, la sua storia. Lui è un personaggio che, come dice anche Aldo Grasso, una frase che riportiamo dietro il libro, nel retro del libro, su di lui sono state tentate tutte le strategie di annientamento, nel senso che lui, un po' per il suo trascorso, un po' perché è andato a toccare nervi scoperti come magari la pedofilia nella chiesa o comunque i poteri forti, è stato letteralmente massacrato da stampa e chiesa e politica. E quindi volevo ridare voce a lui come persona soprattutto, non come personaggio Gabriele Paolini, come disturbatore, ma come persona. Gabriele Paolini in questi ultimi tempi è stato fuori dai microfoni per una condanna, ricordiamola, un anno e otto mesi, proprio per pedofilia. Questo racconto fiume, così come viene definito anche da voi, tratta proprio questo argomento, un amore per un giovane 17enne, un giovane che fa scoprire a lui l'amore vero. Lui in un'intervista rilasciata qualche giorno fa dice proprio questo, io sono stato sempre innamorato di me stesso, ma grazie a questo ragazzo che lui chiama Daniel, non so se sia un nome fittizio o il nome vero di questo ragazzo, ho abbandonato il mio narcisismo e ho capito di poter amare anche qualcun altro. Qualcosa di importante poi alla fine per un personaggio come lui, che di fatto è apparso agli occhi dell'Italia, perché sappiamo qual è stato il suo ruolo per anni, un nullafacente per eccellenza. Sì, in effetti l'obiettivo che aveva Mari Rosa con l'intervista e noi con il libro era proprio questo, appunto di voler studiare e ampliare il delicato argomento della prostituzione minorile e lo abbiamo fatto attraverso le vicende personali di Gabriele Paolini, che come dicevi tu è stato anche condannato a un anno e otto mesi per induzione alla prostituzione. Però, sì, come dicevi tu, ne viene fuori una persona totalmente diversa. È quello che noi con questo libro puntiamo a fare. Noi non vogliamo assolutamente fare un'esaltazione del disturbatore tv e un'esaltazione del personaggio. Noi vogliamo appunto raccontare questa storia di quest'uomo che si è trovato ad amare questo ragazzo che al tempo era minorenne e ovviamente ha avuto anche delle ripercussioni questo suo amore. Però, insomma, Gabriele come uomo ne viene fuori in questo libro come una persona che in effetti risulta pentita per tutte le cose anche brutte che ha fatto nel passato. Però, allo stesso modo, vuole far capire, vuole mettere, sottolineare appunto sull'aspetto della prostituzione minorile andando a difendere i minori in questo caso. Quindi, paradossalmente, questo libro, anche partendo dalle sue vicende giudiziarie, vuole andare a difendere i minori dallo sfruttamento della prostituzione. La cosa bella che avete detto, e mi piace ribadirla, è soltanto la conoscenza dei fatti, la loro completezza può liberare le persone dal pregiudizio. Sappiamo che il genere umano, per eccellenza, è sempre pronto a puntare il dito, ma molto probabilmente questo si fa per ignoranza. Secondo lei questo è vero? Sì, è verissimo, e infatti mi sono trovato in questi giorni, quando parlo con le persone del libro di Gabriele Paolini, mi sono trovato proprio di fronte a questa situazione. Molti che, come sentono il nome Gabriele Paolini, sono un po' restie, a parte restie, ma hanno il pregiudizio innato di questo personaggio, conosciuto così in maniera superficialmente, ma nel momento in cui chiedo perché odi così tanto Gabriele Paolini, perché non compreresti mai questo libro, non sanno rispondermi, o balbettano qualcosa sulle comparsate tv, o sugli ultimi casi che l'hanno visto coinvolto a livello giudiziario. Però nessuno mi sa dire chi è Gabriele Paolini, che cosa ha fatto di... E questo libro serve proprio a quello, magari a far capire ai più che la verità non sta soltanto da una parte, ma potrebbe stare anche nel mezzo. Fa molto pensare all'ambiente carcerario, no? Si parla tante volte di scontare le pene, poi di un reinserimento nel sociale, reinserimento nel sociale che però non avviene mai al 100%, perché c'è sempre il pregiudizio, no? Quindi comunque nessuno può mai discolparsi di quello che magari... di un errore che ha commesso nella vita. Sì, sì, sicuramente quella è una macchia che ti resta per sempre, e non è nemmeno questo il nostro obiettivo, non è il nostro obiettivo quello di andare a pulire la faccia a Gabriele Paolini, perché non è il mio obiettivo. Il nostro obiettivo è raccontare una storia, una storia partendo da una storia reale di quest'uomo che ha avuto tutte queste difficoltà e tutti questi attacchi anche ingiustificati, e parlare della sua storia e parlare del problema della prostituzione minorile attraverso una storia reale e attraverso questo personaggio che, ahimè, è abbastanza noto. Avete coniato un nuovo termine, una biointervista, dove Paolini racconta della politica, perché non l'abbandona nemmeno in questo suo libro, e dedica una parte a Silvio Berlusconi dicendo se da un lato Berlusconi non esistesse, bisognerebbe inventarlo, però non condivide il fatto che Berlusconi abbia voluto sempre di più. Sì, ovviamente, visto il personaggio, non si poteva non menzionare la politica. Ci sono, oltre a Berlusconi, ci sono tanti personaggi che lui va, nel libro va a pizzicare, c'è Emilio Fede, Fabrizio Corona, insomma, ne ha abbastanza per tutti, avendo vissuto in questo mondo, nel mondo della politica, nel mondo del giornalismo per tanti anni, come disturbatore e come conoscitore, perché comunque Gabriele Paolini nasce come anche esperto di comunicazione, poi ovviamente ha scelto una strada tutta sua per salire alla ribalta, però comunque nasce come conoscitore della comunicazione. E sì, parlo di Berlusconi, che c'è anche lì, per lui ha amore e odio, e parla di Emilio Fede, in maniera forse non molto delicata, però ecco, va a toccare diversi argomenti in questo libro, perché il libro è il racconto di una storia di un uomo, quindi per forza di cose è pieno di sfaccettature. Facendo un passo indietro, parlando dell'uomo di per sé, mi ha incuriosito molto, mi ha fatto molto piacere sempre questa intervista, lui si emoziona. Lui, che per anni ha vissuto dietro una telecamera, dietro un personaggio famoso o un collega, aveva sempre quest'aria da strafottente. In questa intervista lo abbiamo visto emozionato, ma ha sottolineato un passaggio molto importante, dicendo, sono dell'avviso che chi sbaglia deve pagare. E' quasi un'ammissione di colpa, tra virgolette, ma un'ammissione di colpa non diretta, cioè nel senso che dice, io avrò anche sbagliato, però questo errore l'ho pagato e ne voglio uscire fuori, perché è stato un aiuto per la mia vita. Sì, lui sicuramente si è reso conto di tutti gli errori che ha fatto e in effetti ha sorpreso anche me vederlo, questo Gabriele Paolini diverso, abituati a vederlo sempre al centro dell'attenzione, sempre esagerato, esaltato nei suoi modi, in tutte le cose che fa, vederlo piangere fa un certo effetto, davanti poi a una telecamera, e lì è cascata secondo me via la maschera, in quel momento è venuta via la maschera che lui ha portato per tutti questi anni, perché appunto anche forse il carcere lo ha fatto maturare dentro e il libro, e quello che c'è nel libro ne sono la prova, perché questo non è un libro dove si raccontano tutte le malefatte che ha fatto Gabriele Paolini, invece è un libro che racconta questa maturazione, questa nascita di un Gabriele nuovo, diverso, magari più maturo, magari adesso più attento a non ripetere gli stessi errori che lo hanno visto nel passato, ricostruire un nuovo sé, e quelle lacrime ne sono la testimonianza. Quanto può incidere nella vita di un uomo? Si è scritto tanto sul narcisismo, tante volte questo narcisismo che viene inteso come colui che vuole stare al centro dell'attenzione, poi effettivamente si vanno a leggere dei testi, io per prima, e sfogliando i casi soprattutto di psichiatri che hanno analizzato il narcisismo, vuoi o non vuoi ci si ritrova dentro ognuno di noi, quindi ogni caso che si analizza ti ricorda sempre una persona. Quando può incidere? Perché alla fine ognuno di noi è narcisista. Si, si, ognuno di noi tende ad essere narcisista perché ovviamente per forza di cose dobbiamo ogni giorno fare i conti solo con noi stessi e non con gli altri, o meglio, prima di tutto con noi stessi, quindi si, in Paolini questa forma è ingigantita in maniera esasperata quasi, è un narcisista esasperato, però anche quell'aspetto che lo ha condizionato, quell'aspetto di narcisismo che lo ha condizionato per tutta la vita, in quest'ultimo periodo è come se venisse meno, come se si spogliasse da questo narcisismo e diventasse veramente Gabriele Paolini chi è veramente, insomma. E sì, ti ho detto, questo è un po' tutto il filo conduttore di questa biointervista, termine che, come ti dicevo, biointervista è stato coniato in realtà da Mari Rosa Barbieri, che è un'unione tra biografia e intervista e che noi abbiamo adottato, infatti è un termine, è un format totalmente nuovo nella letteratura, biointervista, di solito si conoscono le biografie, autobiografie, interviste, e invece questo è un nuovo format che lancia proprio la Lupi Editore, grazie a Mari Rosa Barbieri. Il 26 l'uscita di questo libro, ci sarà una presentazione e arriverà anche Gabriele Paolini a Sulmona? Allora, il 26 c'è il lancio in tutte le migliori librerie d'Italia. Successivamente stiamo preparando una presentazione qui a Sulmona, dove ci sarà Gabriele Paolini, ci viene a trovare, e ci sarà lui, ci sarà una presentazione del libro, il lancio del libro, spero non faccia troppo scalpore, troppo casino, però ci sarà anche lui, sì. Voi che cosa vi aspettate dall'uscita di questo libro? Noi ci crediamo molto in questo libro, nel senso che molti mi hanno detto è un'operazione commerciale, non è assolutamente niente di tutto ciò, perché... Non ci sarebbe nulla di male? Voglio dire, è un'operazione commerciale, fate il vostro lavoro. Non ci sarebbe niente di male, però visto il personaggio sarebbe stato un suicidio editoriale, se non credevamo fortemente nel progetto. Il progetto è quello appunto di parlare di un argomento importante come lo sfruttamento della prostituzione minorile attraverso un fatto realmente accaduto a un personaggio abbastanza noto. Quindi ci crediamo tanto e punteremo molto su questo libro. Questa, quindi l'uscita dei primi di marzo, diciamo, mettiamola così, tra febbraio e marzo, che cosa c'è in progetto dalla vostra casa editrice? Stiamo lavorando a diverse altre pubblicazioni, innanzitutto adesso stiamo prendendo accordi per una distribuzione nazionale abbastanza capillare, perché visto il libro, visto il personaggio, visto che ci sono state tantissime richieste di questo libro, adesso stiamo allargando la distribuzione, rendendola più capillare e entrando anche nelle grandi catene. Poi stiamo preparando altre due pubblicazioni che avverranno nei mesi, a brevissimo comunque, stiamo preparando anche un grande evento per settembre 2016 e poi ci stiamo preparando, come credo, molte associazioni sul Monesi, a Ovidio 2017. Stiamo preparando qualcosa, però preferisco per il momento non parlarne. Non dirlo. Senti, invece, la scelta della copertina, no? Vediamo questa prima immagine di un suo ritratto, poi dietro però non perde il suo spirito e quindi con questa mano cornifica, tra virgolette, non so chi. Sì, però se ci fai caso c'è un sorriso, quindi è un po'... Esce fuori dagli schemi, da quello che era il suo personaggio molto serio. Esatto, esatto. Quindi l'abbiamo messa volutamente perché un ancora al passato, a quello che era, però allo stesso modo un cambio radicale della sua persona. Le Corna lo hanno sempre rappresentato durante tutta la sua carriera, quindi l'abbiamo voluto rinserire come richiamo a chi era Gabriele Paolini. Però la copertina, invece, è stata scelta una posa seria proprio perché è quello che incarna adesso Gabriele Paolini. La copertina è stata, non so se lo posso dire, però lo dico, è stata realizzata dal maestro Nico Tucci, conosciutissimo fotografo di Sulmona. E niente, per questo abbiamo... La cosa che mi fa riflettere, perché ad occhio nudo, facendo io la giornalista, vedo questo sfondo nero che potrebbe essere il tunnel, il rosso della passione, ma anche della rinascita. Sì, anche quello... Potrebbe essere inteso come questo motivo? Sì, anche quello, la scelta dei colori non è assolutamente casuale. Anche lui, adesso non si vede benissimo dalla foto, anche lui indossa un abito che è per metà nero e per metà bianco. Si gira nella parte nera per una questione proprio del fotografo, però lui ha un abito bicolore. Quindi anche là c'è l'ambiguità della sua persona, il suo cambio. Il rosso, ovviamente, quello che rappresenta l'amore, l'amore che lo ha fatto cambiare, ma lo stesso amore che lo ha distrutto negli ultimi anni per tutte le vicende che ha avuto. Quindi sì, anche i colori non sono casuali. Invece, vogliamo dire qualcosa sulla collega, su Maria Rosa Barbieri. Lei lavora per un sito online, lo dirige, www.eventoabruzzo.it. Lei conosciuta Sulmona perché ha già scritto altri libri? Sì, lei ha pubblicato diversi libri. L'ultimo l'abbiamo presentato proprio qui a Sulmona che è la storia, le confessioni di un bambino, il diario sfogo di un uomo, sostanzialmente. L'abbiamo presentato in estate in libreria da me, a libreria Punto a Capo e lì c'è stato questo primo incontro con Mari Rosa che mi è sembrata subito una ragazza molto attenta a questi argomenti, anche scomodi e quindi è quello che mi ha colpito più di tutto perché una ragazza di 30 anni che comunque va a toccare argomenti scomodi e si cerca di far spazio in un mondo editoriale che è ancora purtroppo troppo secondo me controllato da come dicevamo prima dai poteri forti e ci vuole molto coraggio quindi lei ne ha molto anche perché questo è il secondo libro dove lei va a toccare argomenti molto importanti molto scomodi quindi vuol dire che ci crede fortemente in quello che fa quindi grande stima e quello è stato un altro punto a suo favore per farmi poi scegliere di pubblicare questo testo il suo testo io leggo una frase qui della vostra casa editrice siamo convinti che la letteratura in qualsiasi forma si presenti debba essere a nostro parere sempre in grado di fornire nuovi spunti e punti di vista ecco dunque che raccontare le vicende e le confessioni più intime di un personaggio come Gabriele Paolini sempre al centro di polemiche e scandali ci ha convinti da subito sì noi appena abbiamo analizzato il testo abbiamo capito che quello poteva essere un testo da valorizzare e da poter pubblicizzare al meglio perché come ti dicevo anche prima è un personaggio che si denota da subito nel libro è un personaggio che è stato letteralmente massacrato massacrato come personaggio intendo e quindi ci è sembrato giusto dare voce a un personaggio anche così famoso dare voce alle sue verità che attualmente non riesce non riesce a far venire fuori perché sommerso appunto dai poteri forti come dicevo e come ho ripetuto spesso quindi sì ci è sembrata una scelta una scelta giusta quella di di intraprendere questa avventura con lui speriamo che ci ripagherà hai avuto modo di sentirlo prima dell'uscita del libro che cosa ti aspetta lui da questa lui è molto contento lui è molto contento perché è un pezzo della sua vita questo quindi per forza di cose è contento l'ho incontrato a Pescara quando abbiamo presentato il progetto praticamente nella sede della scrittrice abbiamo presentato il progetto alla stampa e l'ho sentito qualche giorno fa per preparare proprio la presentazione lui è molto contento di questo di questo lavoro perché quello che voleva voleva venire fuori da questo periodo buio della sua vita attraverso un nuovo sé e questo libro ne è la testimonianza quindi lui si aspetta molto da questo libro ci verrà a trovare a Sulmona e spero che ci sarete anche voi grazie io ti ringrazio di essere tornato da noi per presentare in altre prima questo libro vi auguro un buon successo con questa nuova avventura chiaramente auguro anche a Gabriele Paolini di uscire fuori e di riscoprire quella che è la sua indole da uomo rinato diciamo da araba fenice come si suol dire e quindi in bocca al lupo ci vediamo la prossima volta grazie mille grazie a te grazie a voi telespettatori lascio una buona serata e vi do appuntamento a giovedì prossimo arrivederci a giovedì